Gli agenti della Polizia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno arrestato un 22enne incensurato residente a Monte Corvino Pugliano, resosi responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio. Il giovane, a seguito di perquisizione personale domiciliare eseguita a Monte Corvino Pugliano, è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina. Dopo le formalità di rito, il PM ha disposto che l'indagato venisse collocato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinnanzi al GIP presso il Tribunale di Salerno.